Un tavolo di lavoro condiviso per utilizzare al meglio i fondi europei 2014-2020 e il succo dell'accordo sottoscritto dall'Aggiunta regionale con le parti sociali. Il protocollo avvierà una cabina di regia che vedrà all'opera fianco a fianco le sigle dei lavoratori e dei datori di lavoro pugliesi. Un confronto costante per raccordare la pianificazione strategica degli aiuti europei nell'ambito dell'ultimo settennio utile prima di uscire dalla convergenza per le regioni povere. Obiettivo valorizzare al meglio le risorse puntando a verificare i programmi settimanalmente. La Puglia vuol confermare il trend positivo di spesa degli ultimi anni, risultati che la proiettano al primo posto al sud. Performance messe in dubbio però dai vincoli troppo rigidi del patto di stabilità nazionale. Il governatore Vendola si è detto soddisfatto per l'appoggio alla battaglia contro il governo condivisa dal leader dell'opposizione Zullo. Noi vogliamo soltanto poter spendere i soldi nostri per aprire i cantieri e dare lavoro ai giovani. Questa è la richiesta che facciamo al governo, ai parlamentari, dateci una mano, tutta la Puglia è d'accordo con noi e allora ecco speriamo che la solidarietà che ci arrivi, che ci arriva in queste ore dappertutto non assomigli al cordoglio, alle condoglianze.